I rappresentanti sono sul tetto, urlano attraverso megafoni, gli studenti scalpitano e battono le mani, uno striscione viene appeso ben visibile ai passanti, il liceo classico è occupato. È il 15 novembre 2012 e solo qualche ora prima ci ritrovavamo a percorrere Viale Mazzini avvicinandoci sempre di più al liceo. Non appena arrivati eravamo stati indirizzati verso la palestra dove riuniti ascoltavamo le varie indicazioni. Avevo lo stomaco sottosopra e l'emozione che percorreva ogni singolo nervo del mio corpo. I professori camminavano tranquillamente per la scuola. Agli studenti era stato detto di non far uscire neanche una parola sull'argomento fino al giorno stabilito, ma era evidente che la maggior parte dei docenti non era né sorpresa né spaventata, essendo già al corrente di ogni cosa. All'improvviso ci eravamo spostati senza un apparente motivo nell'atrio di Augusto e dopo qualche minuto ci eravamo ritrovati a girare per la scuola senza una meta, senza qualche documento da consegnare, senza qualche professore da trovare o qualche altro dovere da svolgere. Eravamo finalmente liberi all'interno di una struttura nella quale mai lo eravamo stati. Mi sentivo bene, sentivo di star facendo qualcosa di giusto, qualcosa per la quale valeva la pena lottare. Riuscivo ad intravedere nella moltitudine di occhi spaisati l'emozione e l'agitazione che cresceva, ma allo stesso tempo una grande intesa. Scegli i tuoi alleati e impara a lottare in compagnia, perché nessuno vinse una guerra da solo. Grazie. 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 Grazie a tutti